Il tuo parere, il tuo pensiero su Barella, Giancarlo Padovan e Sebastiano Salaroli è il miglior acquisto possibile, secondo me sì, a ragione Luca. Per me sì, a ragione Luca. Stravedo per Barella, dovrebbe avere solo due attenzioni. Protestare meno e entrare con un po' meno vigoria che ogni tanto perde. Rimedia troppe ammunizioni per conto mio e anche qualche espulsione di troppo. Però è un giocatore importantissimo, uno dei migliori talenti non solo in prospettiva ma già pronti per il calcio italiano ad alto livello. È un nazionale secondo me ormai conclamato nel senso che Mancini non se ne preverà mai, se non per scadimenti di forma inipotizzabili in questo momento. E siccome mi piace fare il polemico vorrei chiedere al signore di prima, nostro telespettatore, se Barella vale 30 milioni. No, ne vale di più e l'Inter lo prenderà a più soldi perché, ripetiamo, non per voler aver ragione. Qui nessuno ha torto e nessuno ha ragione. Purtroppo il mercato lo possiamo definire pazzo, lo possiamo definire eccessivo, lo possiamo definire illogico, lo possiamo definire poco congruo con il valore reale dei giocatori. Ma questo dice, e ripeto, Barella è un giocatore che sicuramente vale anche più di sensi perché ha dimostrato anche di più, ma verrà acquistato per cifre del genere. Sebastiano! Sì, è in assoluto il miglior acquisto che si potrebbe fare in quel ruolo oggi. Ma poi scusami Sebastiano, stavo pensando, no? È il classico giocatore che servirebbe a tutte le squadre. Cioè un Barella adesso serve a tutti. Adesso all'Inter, al Milan, alla Roma, al Napoli. I giocatori forti servono sempre a tutte le squadre. E Barella è un giocatore forte. È un giocatore che ha dimostrato di avere una crescita rapida e verticale, direi. E quindi credo che sia un giocatore che può far comodo a tutti. E mi piace il fatto che oggi si parli sempre di più di giocatori italiani adatti ai grandi club. Questo vuol dire che il tanto vituperato calcio italiano, che non sfodera più talenti, che non ha giocatori di qualità, invece qualcosa sta tirando fuori. E Mancini io credo che stia lavorando benissimo da questo punto di vista e lanciare dei giovani come Barella, come Zagnolo e convocare Tonali sia un segnale molto importante per il nostro movimento calcistico. Su Barella possiamo aggiungere qualcosa? Vale perché è vero quanto ha detto Luca dell'inserimento del Napoli. A tutti gli effetti però la posizione di vantaggio che l'Inter aveva costruito in estate, quando parlammo di un blitz monegasco di Piero Ausilio a casa del procuratore di Barella, Alessandro Beltrami, a margine dell'operazione Nainggolan, che comunque è assistito dallo stesso procuratore. Diciamo che il margine che l'Inter ha acquisito in quella circostanza, nel corso di quelle trattative, non è ancora stato colmato dall'offensiva del Napoli delle ultime ore. Peraltro il Cagliari non ha la minima intenzione di cedere Barella nel corso di questa finestra di mercato e preferirebbe non concludere nemmeno la trattativa ora in vista di giugno, non fare un'operazione alla Pulisic per intenderci, cedendo il giocatore e tenendoselo in prestito fino al termine del campionato, ma vorrebbe trattarne il valore di cartellino proprio in estate. Per il momento l'Inter è ancora in vantaggio anche se l'offensiva del Napoli c'è stata nelle ultime ore ed è molto concreta. Apriamo invece la parentesi dedicata all'Inter come promesso a proposito di talenti, non abbiamo parlato di talenti francesi ma anche sudamericani con Almendra, argentino. Ci sono talenti brasiliani che interessano all'Inter perché l'Inter ha una politica precisa, quella di ringiovanire la rosa. Sì, soprattutto ha la politica di investire sui giovani per cercare di valorizzarli poi in nero azzurro. Abbiamo fatto alcuni nomi, per esempio quello di Chouameni che è un giocatore che l'Inter segue da vicino. Come abbiamo detto dal Brasile invece un nome interessante è quello del portiere Brasau per il quale l'Inter potrebbe costruire una sinergia con un club italiano che già ha portato buoni frutti in passato e potrebbe quindi appoggiarlo per i prossimi sei mesi per farlo adattare un po' alla realtà calcistica di casa nostra. Per esempio al Chievo piacciono anche due giocatori del Flamengo come Lincoln e Reiner che sono stati trattati dall'Inter nell'ambito di un'operazione che potrebbe consentire a Gabigol di trovare una nuova squadra perché non dimentichiamo che Gabigol è un giocatore che tornerà ad essere a tutti gli effetti dell'Inter dopo il prestito al Santos. È un discorso diverso rispetto a quello di Caramò per il quale invece l'Inter non ha alcuna intenzione di ascoltare nessun tipo di offerta nel corso di questa sessione di mercato crede nel giocatore ed evidentemente deciderà poi cosa farne del suo destino nel corso della sessione estiva del calciomercato per questo motivo non si è parlato di lui, di questo profilo nell'ambito dell'affare Chiuamini. Perfetto Giancarlo, tra l'altro Brasau portiere del Cruzeiro, Lincoln attaccante del Flamengo, parliamo di Millennials quindi giocatori targati, griffati, 2000 se ne parla molto bene, sono stati i protagonisti del Mondiale Under 17 per Brasau ne parlavamo prima anche fuori onda con Sebastiano Salaroli, quasi si prospetta un futuro alla Giulio Cesar poi lasciamo stare l'etichetta come abbiamo fatto per Almendra, Richelme. Tutti ne parlano bene, tutti dicono che sia un portiere molto valido, non a caso ci ha messo gli occhi l'Inter ho sentito che potrebbe transitare dal Chievo, dati i rapporti che l'Inter ha con il Chievo e in questo senso ripercorrebbe, solo in questo senso, poi vediamo anche se le qualità sono le stesse o addirittura superiore, ripercorrerebbe la strada che ha fatto Giulio Cesar. Non so, mi piace parlare di chi conosco e questo giocatore, questo portiere non lo conosco e poi forse non ho neanche sinceramente gli strumenti adatti per giudicarlo perché bisogna essere secondo me degli specialisti per giudicare i portieri. In ogni caso il fatto che sia un Millennium è importante, il fatto che ci sia una squadra italiana su di lui è significativo, io credo che lo aspetto se arriverà con molta curiosità. Possibile in uscita? Direi più che possibile perché il giocatore non sta trovando spazio, vorrebbe più spazio, è un difensore comunque sia che ha fatto grandi cose con l'Atletico Madrid, con la stessa nazionale brasiliana, parliamo di João Miranda a proposito di sudamericani, a proposito di difensori in questo caso che non sono tra virgolette felici nel club in cui militano. Miranda è un giocatore di grande carisma, è un giocatore che è abituato a fare il titolare sia nella nazionale brasiliana che nell'Inter che nell'Atletico Madrid, quindi è chiaro che nel momento in cui non trova spazio perché stanno giocando screen a Ray De Vrij, abbia l'ambizione di andare a fare il protagonista perché lui è uno di quei giocatori che hanno bisogno di sentirsi nel vivo nel cuore di una squadra, quindi ci può stare come soluzione per lui la cessione, questo dal suo punto di vista è comprensibile. È comprensibile, forse non ci può stare una cessione a una diretta concorrente, perché ovvio che un difensore come Miranda magari farebbe comodo anche la Roma, non a caso si è parlato, per esempio una squadra a caso, c'è in uscita Marcano che è vero che è arrivato a parametro zero, ma ha giocato pochi minuti, è anche zero, cioè parametro zero vale zero. Oggi sei irrefrenabile, sei una forma incredibile Giancarlo. No, voglio dire, hai ragione, troppo buoni, no, troppo cattivi, ecco, però non va bene neanche essere troppo buoni, cioè Marcano è stato, vogliamo dirlo, un acquisto sbagliato per la Roma, adesso zero no, è un giocatore che il suo valore ce l'avrà, però ha fatto zero, è arrivato a parametro zero, ha dimostrato zero. Cioè, Miranda è di un'altra categoria, non ce ne voglia Marcano, no? No, è di un altro mondo. Un altro mondo. Certo, un altro mondo. Sì, però... Vi aspettate qualcosa in più da Miranda all'Inter o no? Perché poi ci sono dei pareri contrastanti sull'ex San Paolo, ex Atletico Madrid. Ma Miranda ha raggiunto l'obiettivo che doveva raggiungere con l'Inter, l'anno scorso ha portato, ha dato un grande contributo per andare in Champions League, è un giocatore che ha quell'esperienza e appunto quel carisma di cui l'Inter, secondo me, aveva bisogno per centrare l'obiettivo. Dopo è chiaro che nel momento in cui prendi De Vrij ha parametro zero. Esatto, però qui non vale zero. No, vale. Hai un concorrente di tutto rispetto e con la prospettiva di giocare la Champions League l'Inter aveva bisogno di tre centrali di grande livello. Nel momento in cui esci dalla Champions League e fai comunque l'Europa League, che però richiede sicuramente meno sforzo mentale, allora potresti permetterti di privartene, anche se io credo che sia più una volontà del giocatore piuttosto che dell'Inter, perché comunque avere un giocatore come Miranda fa sempre comodo, soprattutto se è un'alternativa, come è in questo momento. Anche se le sue partite le ha anche giocate quest'anno. No, Spalletti non è che non lo vede. Appunto, quindi voglio dire, mi farebbe specie che l'Inter se ne privasse senza prendere un giocatore di pari livello. Le grandi squadre devono avere più di 11 titolari, quindi a meno che non ci sia una spinta forte dal giocatore, io credo che l'Inter non abbia intenzione di privarsene. Inter che farà pochissimo però a gennaio, l'entrata, no? Poco o niente, in prospettiva futura, perché poi si lavora per l'estate. Sì, però attenzione. Che all'Inter non ci sia qualcuno, Spalletti in testa, che magari pensi per queste o per altre ragioni, per esempio siamo usciti dalla Champions, che questa sia una stagione transitoria. Cioè, siamo al terzo posto, l'obiettivo più o meno l'abbiamo raggiunto, nelle coppe che restano, Italia, Europa League, vada come vada. No, 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 no. È un discorso completamente sbagliato, ma non perché lo dico io, perché lo dice e lo pensa Marotta. Cioè, non lo dice ma lo pensa Marotta. Cioè, all'Inter, secondo me, tutti, a partire da Spalletti, sono sotto esame per vedere come interpretano questa seconda parte di stagione. E il fatto di avere degli obiettivi che sono più o meno sottaciuti è una trappola, perché l'Inter, quando è arrivato Marotta, all'Inter Marotta ha detto che è arrivato il momento di vincere qualcosa. Non fra due anni, non l'anno prossimo. No, subito. Europa League o Coppa Italia, certo. Subito. Qualcosa va fatto, va fatto subito. E allora, attenzione a non prenderla, come dire, sotto gamba questa stagione. Cioè, ormai è andata, siamo fuori dalla Champions, terzi ci siamo. Il terzo posto non credo glielo porterà via qualcuno. E divacchiamo fino alla fine della stagione. Sarebbe la fine per qualcuno. O tra i giocatori o dello stesso allenatore. Io vi ricordo, da Sport Italia Mercato con Michele Crisciti all'Alfredo Pedullà, importanti aggiornamenti sul futuro di Barella. C'è la mia voce, ma ci sono le notizie di Alfredo Pedullà. Alfredo, quando mi parli di Barella, quando mi parli eventualmente di Guaindo, capiamo adesso. Stai studiando. Cosa? Parliamo adesso di Barella, subito, dai, così andiamo su un tema che è molto caldo. Se ritiene opportuno, saluto i tuoi ospiti. Saluto particolarmente Angelo, che non vedevo da un sacco di tempo. Barella è un tema caldo. Ciao, ciao mister. Ciao. È un tema molto caldo e possiamo dire... Ciao, ciao. Possiamo dire questo. Che il Chelsea ha intenzione di mettere sul piatto un'offerta da 45 milioni di sterline, che al cambio attuale sono 50 milioni e 200 mila euro. Giulini chiedeva e ha sempre chiesto 50. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di una proposta del Napoli, 20 milioni più un'asse e roghi, cartellini per intero, non prestiti con diritti di riscatto, ma soltanto con una valutazione che, considerate le contropartite tecniche, va a toccare i 50 milioni di euro. Però Barella sul Napoli non è convinto, vuole pensarci, sono situazioni pregresse, quindi malgrado i tentativi del Napoli, in questo momento Barella sta pensando ad altro. Ed è uscito, l'irruzione del Chelsea è stata in giornata importante, con dei contatti. Loro vogliono fare il mercato a gennaio per luglio, non a casa hanno preso Pulisic dal Borussia Dortmund e hanno aggiunto adesso questa offerta da 45 milioni di sterline ed è rimasta soltanto l'Inter. L'Inter è in vantaggio potenzialmente, parleremo di Inter più avanti, è in vantaggio potenzialmente alla scorsa estate, però non ha la disponibilità per chiudere una cosa adesso. L'Inter può fare dei parametri zero, può concentrarsi su altre situazioni, e il Chelsea ne ha approfittato perché per Sarri, Barella è il centrocampista perfetto da Premier. Sarri ha dato il via libera in giornata a Fabregas, che la settimana prossima volerà in Francia per firmare il contratto con il Monaco, ma questa non è una notizia. Domani giocherà in Coppa di Lega, ha altri problemi. Il Chelsea è disponibile a lasciare Barella da gennaio fino a giugno, da gennaio fino a giugno per programmarlo per la prossima stagione. Quindi memorizziamo questa offerta molto molto importante, ripeto, in euro oltre 50 milioni, palla all'Inter che in questo momento, ripeto, non può rispondere, ma può soltanto programmare una situazione per i prossimi mesi. Ecco perché il Chelsea con la disponibilità cash, anche per evitare eventuali blocchi di mercato, e per questo motivo si sta muovendo a gennaio. Scarpini su Barella, attenzione perché la notizia che ti ha dato Petulà ti potrebbe preoccupare non poco. Beh ma la realtà è che i club della Premier, Bayer Monaco, Paris Saint Germain, Real e Barcellona ragionano e si muovono con delle logiche completamente differenti a quelle che possono applicare i club italiani, e quindi Juventus a parte. La Juventus ormai si muove a livello di questi club, quindi c'è un giocatore, non conta tanto il prezzo, conta il progetto tecnico e se interessa hanno liquidità, hanno forza economica, eccetera, eccetera. Quindi è difficile per qualsiasi club italiano andare a contrastare, andare a fare una gara con un avversario che ti arriva dalla Premier League, perché ti danno dei rilanci, penso che Alfredo sia d'accordo su questo, cioè non c'è mai partita dal punto di vista economico, poi dal punto di vista tecnico, di scelte di vita, eccetera, possono capitare, ci potranno sempre essere delle eccezioni, però mi sembra che poi la variabile economica sia quella che sta spostando molto ultimamente, sia per i club, perché mettiamoci anche nei panni del Cagliari, è meglio prendere 20 milioni e due giocatori dal Napoli o prendere 52 milioni, 50 quello che è subito dal CES, è normale, quindi i club come Cagliari, come il Genoa, cioè le medio-piccole vivono per trovare prodotti del vivaio tipo Barella o trovare giocatori che paghi poco, tipo Piontech, per poi poterli andare a rivendere. Però, Roberto, Angelo adesso è allenato, il Chelsea è allenato alla Juventus, è allenato sia in Italia che in Inghilterra, uno come Barella potrebbe avere un buon inserimento, anche perché voi avete avuto Zappacosti, stiamo parlando di giocatori completamente diversi, però l'inserimento di un giovane è subito in Premier, e un vantaggio sarebbe complicato, secondo te, Angelo, tu che hai allenato il Chelsea fino all'altro io, ti dai? Ma, potrebbe trovare delle difficoltà, penso all'inizio, perché comunque è un calcio diverso, un calcio differente, molto fisico, anche logicamente tecnico, molto veloce, credo che all'inizio potrebbe trovare delle difficoltà, ma la qualità di questo giovane calciatore non si discute, poi sarà Sarri nel caso a palasmare e preparare al meglio questo giocatore, per questo palcoscenico molto importante, molto importante per la sua carriera. Di Godin cosa mi dici invece? Di Godin l'Inter, come era stato raccontato nei giorni scorsi, c'erano stati, io non cito mai altre fonti, però c'era stato un titolo importante del Corriere dello Sport, Godin, priorità dell'Inter, è un'opzione molto concreta col fatto che lui non rinnoverà con l'Atletico, ci aveva pensato la Juve l'estate scorsa e adesso l'Inter è nelle opportunità a parametro zero, un'altra opportunità è rara, perché noi anno scorso novembre abbiamo parlato di quell'Inter, può fare ecco perché quando noi parliamo di Barella, parliamo di disponibilità di un club e di necessità dell'Inter di chiudere definitivamente il discorso per il club finanziario. Godin ed Andersen, visto che Miranda vuole andare via, sono i due nomi che per l'Inter diventano priorità. Ed è chiaro che dopo De Vrij, dopo Asamoa, i rumor sono confermati da un'offerta che può andare in dirittura d'arrivo, perché lui ha deciso di rinnovare con l'Atletico e ha deciso di fare un'altra esperienza, possibilmente in Italia. La Juve l'aveva seguito, poi l'ha mollato, l'Inter si è specializzato in questi colpi, quindi è una strada abbastanza ben spianata. Sarebbe un buon acquisto, ovviamente e eventualmente, secondo Mr. Mambrini, Godin? Godin è un giocatore d'esperienza, negli ultimi anni l'Atletico Madrid è un giocatore centrale, importante e penso che una squadra come l'Inter, che ha fatto già un ottimo calciomercato all'inizio, però mancano quei due o tre giocatori all'Inter per completare e per fare quel salto di qualità. E quindi io lo vedo bene in una squadra come l'Inter. Alfredo, su Barella non abbiamo nient'altro da raggiungere? Andiamo avanti? No, su Barella dobbiamo soltanto aspettare, anche perché, ti ripeto, domani il Chelsea gioca e hanno salutato perché Sare si è congelato da Fabregas. Non è Barella il sostituto di Fabregas, perché stanno lavorando su un altro nome per l'immediato. Barella è una grande offerta per anticipare la concorrenza che passerà al vaglio di Giulini. Possiamo dire una cosa, se Giulini chiedeva, come ha chiesto, 50 milioni cash per sedersi a un tavolo evitando eventuali contropartite tecniche, di sicuro questa proposta è di 45 milioni di sterline che mi sono divertito un po' al cambio oggi, a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi minuti, siamo a 50 milioni e 200 mila euro rotti e passa. Quindi l'offerta c'è ed è una traccia che dobbiamo seguire. Vediamo quale sarà la decisione del Cagliari, quale sarà la reazione dell'Inter che ha un grande rapporto con il Cagliari e questo lo dobbiamo sicuramente mettere in preventivo, però poi alla fine cosa c'è? Carta canta, il cash, l'offerta e magari l'Inter dirà al Cagliari aspettami un minuto perché quei soldi li posso garantire, di sicuro è un'offerta faraonica. Cagliari